www.fifaisy.com Ho fatto un flop, però tornando in Italia si è dimostrato ancora un attaccante di tutto rispetto, meritandosi questa versione in forma con una doppietta nell'ultima giornata di campionato. Iniziamo subito. Devo dire che questa carta mi ricorda parecchio la versione Toz di FIFA 14, ragazzi. Un giocatore a mio parere devastante su quel FIFA 14, che però aveva le due stelle piede debole, le due stelle skill, non mi ricordo bene, che lo penalizzavano veramente tantissimo. E devo dire che questa versione IF mi è piaciuta molto. Non me l'aspettavo personalmente così forte, così incisiva in game, ma devo dire che ne sono rimasto veramente soddisfatto a pieno. Comunque, io direi di iniziare subito con la vera e propria review. Innanzitutto partirei col dire che la velocità di 75 è un vero e proprio pro, dato che anche non avendo un'agilità alta e una velocità comunque molto alta, perché a 75 lo reputo un valore abbastanza basso in FIFA, devo dirvi che mi trovavo molto bene con questo giocatore. Saltava molto facilmente i giocatori, anche avendo le tre stelle skill. Quindi, ragazzi, questo è il primo vero pro di questo giocatore. Passiamo al secondo, raga, che fa parte del dribbling. Allora, il secondo è il controllo palla, ragazzi. Il controllo palla è veramente buono su questo giocatore. Mi permetteva di dribbolare la difesa molto rapidamente, impedendo comunque di fare individuare gli spostamenti di palla. L'ho veramente apprezzata questa statistica. In immobile si nota veramente tanto e gli permetterà questa, più di tutte le altre statistiche, di essere incisivo durante il gioco. Io direi però subito di passare alla terza statistica, che ovviamente, come potete sapere o come potete immaginare, sarà una parte del tiro. Allora, io ho deciso di mettere come pro la finalizzazione. Finalizzazione in game veramente buona, ragazzi. Da qualsiasi posizione immobile ha un gran senso del goal, un gran senso della porta, insomma, vede da tutti i posti la porta e proverà sempre a colpire, insomma, negli angolini o comunque grazie a ripartenze e tiri a giro, secondo me. Infatti questo è un giocatore dove, secondo me, a mio parere, dovete tirare spesso a giro o comunque dovete tirare di potenza. Non dovete fare tiri strani, potenza o giro, che sono quelli che entreranno più facilmente con questo giocatore. Passerei subito al suo quarto pro, ragazzi. Il suo quarto pro è il fisico. Fisico che, come di solito dico, è in abbinata col drilling. È veramente una statistica da non sottovalutare su questo FIFA 16, dato che si gioca molto in difesa, in attacco, col fisico e quindi veramente apprezzatissimo questo 76 sulla carta che sembra addirittura qualcosa in più. E mi ha permesso anche questo in abbinata velocità drilling e tutto. Ha fatto sì che lui, sottoporta e a superare gli ultimi difensori, sia veramente bravo, sempre sul pezzo. Mi è piaciuto veramente, veramente tanto questo attaccante. Passerei ora al suo quinto pro. Il suo quinto pro è il colpo di testa, ragazzi, che mi ricorda troppo la versione di FIFA 14 Tots. Questa è veramente una statistica che me lo ricordo assolutamente. Aveva 84, 88, non mi ricordo, ma era una statistica veramente alta anni fa in testa. E ogni cross era goal. Idem con questa carta in forma, ragazzi. Se la provate sui calci d'angolo e tutto, veramente il 90% delle volte vi farà di quei goal assurdi su calcio d'angolo. Veramente ve lo consiglio vivamente questo giocatore. Io ho deciso di attribuirgli solo un contro, che sono le 3 stelle skill, che a me non mi fanno apprezzare pienamente le carte su FIFA, perché anche solo in abbinata col dribbling, un giocatore diventa automaticamente più agile con le 4 stelle skill. Fatto sta, io gli ho dato un voto di 8 più. Visto il suo prezzo di 20.000 crediti, lo consiglio a chiunque abbia una serie A e non abbia molti crediti. Spero che questa review vi sia piaciuta. Un saluto e un abbraccio da Rebel Bella, ragazzi.